Ciao a tutti, io sono Andrea e come sempre vi do il benvenuto sul mio canale. La storia che vi riporterò oggi è dell'incredibile. Torniamo negli Stati Uniti e vogliamo fino a Price nello Utah. La bambina sorridente in questa foto è Heidi Jones, di 4 anni, ed è imposa su una scena del crimine. Un crimine che non potrebbe coinvolgerla più da vicino. È lì infatti che pochi giorni prima che questa foto fosse scattata, il 31 luglio del 1970, la bambina aveva trovato sua madre Loretta morta in una pozza di sangue. Le circostanze dell'omicidio di Loretta Jones sono rimaste un mistero per quasi 40 anni, fino a quando proprio sua figlia Heidi non è riuscita a risolvere il caso semplicemente guardando con più attenzione la foto che vi ho mostrato poco fa. La chiave per trovare l'assassino, infatti, era rimasta nascosta all'interno di quella foto per tutto il tempo. Un altro mistero, almeno per me, è ma chi cavolo ha portato una bambina sulla scena del crimine dove hanno ucciso la sua mamma e l'ha fatta mettere in posa per una foto? Veramente a volte succedono cose che in un film sarebbero completamente inverosimili. Ed invece, beh, prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento ed un like e soprattutto di condividere il video se questo vi ha interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Facciamo un passo indietro ed analizziamo la storia dall'inizio. Come abbiamo detto, correva l'anno 1970. Loretta Jones, 23 anni, era una madre single che lavorava duramente per provvedere a se stessa e a sua figlia Eddie. La donna non poteva concedersi tanti lussi, ma desiderava assicurare a sua figlia una vita il più possibile dignitosa. Cusciva da sola i vestiti per la sua bambina e addirittura creava per lei delle simpatiche bambole di pezza. Nonostante i sacrifici che dovevano affrontare ogni giorno, la loro era una vita felice. Il 30 luglio del 1970 era una calda notte d'estate. Loretta diede il bacio della buonanotte alla sua bambina e la mise a letto. Eddie non sapeva che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto sua madre viva. Aprendo la porta della sua camera, la bambina vede sua madre sdraiata sul pavimento del soggiorno, coperta di sangue. Terrorizzata, uscì di corsa di casa, incontrò un vicino che stava perlustrando il suo prato alla ricerca dei vermi che gli servivano per andare a pesca e gli disse «Penso che mia madre sia morta». Il ragazzo, fra l'incredulo ed il preoccupato, andò a casa della bambina per capire cosa fosse successo e vedendo anche lui la giovane Loretta distesa sul pavimento, corsa ad avvisare sua madre che, a sua volta, volle accertarsi di quanto riferito dal ragazzo e dalla bambina e si avvicinò anche lei alla casa, il tanto giusto per assistere anche lei all'orribile scena. E per fortuna non c'era nessun altro in giro, altrimenti stavamo ancora lì comunque. Alle 11.40 del 31 luglio la donna chiamò la polizia che si precipitò al 468 est della quarta strada dove trovò Loretta Jones, seminuda, diventata, strangolata e finita a coltellate. La donna era stata pugnalata 17 volte alla schiena e due volte al petto e aveva subito uno squarcio al collo, ferite che, presumibilmente, le erano state inferte in un piccolo coltello a lama sottile, che però non fu mai ritrovata. La porta di casa non presentava alcun segno di effrazione, segno che la donna conosceva il suo assassino. Per permettere alla polizia di eseguire le indagini, la piccola Eddie fu affidata alle cure dei suoi nonni. Nonostante la giovanissima età conservò per sempre i ricordi di sua madre, che amava la musica, che indossava una tonalità di rossetto chiamata Pony Pink, che era bella ed alta, che aveva un buon profumo. Con l'assassino ancora a piede libero, Eddie era terrorizzata all'idea che potesse voler uccidere anche lei e, a dirla tutta, anche i poliziotti nutrivano la stessa preoccupazione. L'intera comunità di Price iniziò a preoccuparsi per la sicurezza dei propri figli. Gran parte della comunità era terrorizzata, al pensiero che il mostro, che aveva ucciso così barbaramente una giovane donna, potesse continuare a perpetrare i propri crimini, indisturbato in giro per la città. Pochi giorni dopo l'omicidio di sua madre, la piccola Eddie fu costretta a partecipare al suo funerale e vederla sdraiata dentro una bara con un bel vestito blu e un colletto molto alto, che le era stato messo in modo che nessuno potesse vedere la ferita mortale che l'assassino le aveva inferto al collo. Ricordo di averla guardata nella bara. Mi sembrava proprio come una bella addormentata nel bosco, ma sapevo che qualunque cosa avessi fatto per svegliarla, lei non sarebbe più tornata da me. Ebbe a dire più avanti la povera Eddie. Gli agenti cominciarono a setacciare la casa alla ricerca di indizi ed interrogarono tutti quelli che si trovavano nella zona la notte dell'omicidio, ma tutti i loro sforzi per trovare l'assassino si rivelarono infruttuosi. Il 31 agosto, un mese dopo l'omicidio, la polizia scoprì che Loretta, all'epoca della sua morte, aveva appena conosciuto un uomo di nome Tom Eakley, che viveva in una città vicina a Helper e che era uscita con lui per circa due mesi dopo averlo conosciuto durante un appuntamento al buio. Lei lo aveva liquidato dopo pochissimo tempo, anche perché aveva scoperto che lui non solo era uno sfaccendato, ma viveva con la sua ragazza per giunta incinta. Non avendo altri sospettati e ritenendo che l'uomo potesse essere il colpevole dell'omicidio, la polizia lo fermò. Il giudice incaricato a distruire il processo contro di lui, Tom Platis, ritenne che l'uomo, comunque anche essendo induggente, avesse diritto ad avere un difensore e nominò un avvocato d'ufficio perché seguisse il suo caso. Il tribunale fissò un'udienza preliminare per l'8 ottobre, ma quel giorno il procuratore della Contea, Dan Keller, chiese al giudice di rinviarla, e questo per tre motivi. In primo luogo perché alcune persone che conoscevano sia il sospettato che la vittima si trovavano in un altro stato, il Kansas, e la polizia non aveva ancora avuto la possibilità di parlare con loro. In secondo luogo perché alcuni rapporti dell'FBI non erano completi ed infine perché il detective Poloni, che stava seguendo il caso di omicidio, era impossibilitato a testimoniare perché stava frequentando la scuola per le forze dell'ordine a New York. L'avvocato di Tom protestò contro la richiesta di rinvio perché, a suo dire, violava i diritti civili del suo cliente perché lo costringeva a restare in carcere senza un'udienza preliminare, da innocente fino a prova contraria. Il giudice invece concesse il rinvio, negò la libertà su cauzione a Egli e fissò una nuova udienza per il 5 novembre. Quel giorno l'accusa chiese al giudice di accusare formalmente Egli dell'omicidio di Loretta, ma questi, alla fine, ritenendo che non fossero state presentate prove sufficienti della sua colpevolezza, ne ordinò il rilascio immediato. Nei mesi che seguirono furono eseguiti altri quattro fermi, ma non è emersa alcuna prova contro nessuno dei sospettati. Dopo un solo anno dall'omicidio, il caso di Loretta venne rubricato come call case e l'assassino sembrava l'avesse fatta franca. La figlia di Loretta, però, non si arrese mai all'idea che la morte di sua madre potesse rimanere impunita e cominciò ad essere ossessionata dall'idea di dover fare di tutto per trovare lei il colpevole. Risalendo alla notte del delitto, cominciò ad essere perseguitata da un pensiero. Non ricordava che sua madre avesse gridato aiuto o avesse fatto rumore mentre veniva pugnalata a morte e arrivò alla conclusione che sua madre avesse agito in quel modo perché non voleva che lei si svegliasse, andasse a controllare cosa stesse succedendo e venisse aggredita anche lei. Sua madre gli aveva salvato la vita. Da quel momento, perseguitata dai sensi di colpa e dalla rabbia, il suo unico scopo nella vita divenne trovare il suo assassino. Nonostante i consigli dei familiari e amici di andare avanti con la sua vita, Eddie si convince invece ogni giorno di più a proseguire la sua battaglia. Nel 1989, Eddie compì 23 anni, la stessa età che aveva sua madre quando era stata uccisa. Ispirata da un programma televisivo chiamato Un Solved Mysteries, misteri irrisolti, iniziò ad inviare un'enorme quantità di lettere per chiedere la riapertura del caso. Al dipartimento di polizia della città di Price, allo sceriffo della Contea di Carbon, all'FBI, ma nessuno di loro le rispose. La ragazza non si perse d'animo e continuò ad inviare lettere su lettere a chiunque al fine di mantenere viva l'attenzione sul caso di sua madre. Passarono altri anni senza nessuna risposta da parte di nessuna autorità. Dopo circa 36 anni, l'assassino camminava ancora libero per le strade. Avvicinandosi al suo quarantesimo compleanno, Eddie prese una decisione coraggiosa, lasciò tutto ciò che aveva e tornò alla sua città natale, Price, con l'unica intenzione di risolvere l'omicidio di sua madre. Lì si confrontò con sua nonna, che di nuovo cercò di convincerla a lasciar perdere. La donna desiderava soltanto che sua figlia Loretta potesse riposare in pace e soprattutto era straziata nel vedere che sua nipote non riuscisse ad andare avanti con la sua vita. Nel 2009, Eddie riallacciò per caso i contatti con un suo amico d'infanzia, David Brewer, che aveva commentato un suo post su Facebook «Qualcuno, la notte scorsa mi ha rubato la macchina, buon 4 luglio». Scoprì che David era diventato un poliziotto, perciò decise di chiedergli di aiutarla a trovare l'assassino di sua madre, ripercorrendo con la mente tutto ciò che riusciva a ricordare di quella notte del 31 luglio del 1970. Raccontò al suo amico di essersi svegliata di soprassalto, di essere andata davanti alla porta della camera da letto, di aver guardato dal buco della serratura e di aver visto qualcosa che, all'inizio, aveva pensato fosse solo un mucchio di biancheria. Quando però aveva aperto la porta, aveva trovato sua madre a terra in una pozza di sangue. Sotto shock, si era precipitata fuori casa, era andata dai vicini e aveva detto loro che sua madre era morta. David ascoltò la storia di Eddie e non riuscì a credere di non aver mai saputo dell'omicidio di Loretta, perché la sua amica non ne aveva mai parlato a scuola. Eddie si aspettava che David si rifiutasse di aiutarla, perché in effetti il caso sembrava irrisolvibile. L'uomo, invece, commosso dalla sua storia, decise di riaprire il caso dell'omicidio di Loretta Jones. Il suo primo passo fu quello di rivedere il file del caso in originale, ma si trovò subito di fronte a un grave ostacolo che minacciava di fermare del tutto l'indagine. I fascicoli del caso erano andati perduti da tempo. A quel punto, inoltre, la maggior parte delle persone coinvolte nel caso erano morte o così anziane che c'era la preoccupazione che i loro ricordi fossero ormai annebbiati o dal tempo o dall'età. A parte vecchi ritagli di giornale, David poteva contare soltanto sulla testimonianza scritta dei soccorritori che per primi erano arrivati sulla scena del delitto. Loretta si trovava sdraiata su un fianco, con la mano in una pozza di sangue, colpita da 17 coltellata alla schiena e due al petto. Il detective Brower scoprì che i primi soccorritori non avevano trovato alcun segno di scasso nella porta di casa e, scoperta ancora più scioccante, ricavata dall'autopsia eseguita sulla donna, che Loretta non aveva reagito al suo aggressore. Non presentava, infatti, alcuna ferita da difesa. Perché Loretta non aveva combattuto per salvarsi la vita? Probabilmente perché, come aveva sospettato Eddie, voleva proteggere la sua bambina. Temeva che anche sua figlia potesse essere aggredita. Era stato probabilmente l'ultimo atto di amore incondizionato che la mamma potesse fare per la propria figlia. Sapeva che se avesse urlato la bambina si sarebbe svegliata e probabilmente avrebbe fatto la sua stessa orribile fine. Anche se David aveva raccolto maggiori dettagli sul crimine, non aveva però prove della scena del crimine e nessun indizio sul possibile sospettato. La probabilità di risolvere il caso a quel punto era praticamente nulla. David decise di dover comunicare ad Eddie il suo fallimento e spiegò che senza prove forensi c'era poco che potesse fare. Se solo avesse avuto una foto della scena del crimine, avrebbe potuto avere qualcosa su cui lavorare. Eddie allora si ricordò di una scatola di effetti personali che sua nonna aveva conservato per tutti quegli anni. La donna aveva messo tutto ciò che riguardava l'omicidio di sua figlia lì dentro. L'oggetto più sorprendente che Eddie e David trovarono al suo interno fu proprio la foto di Eddie in piedi vicino alla sagoma del corpo di sua madre. Qualcuno gli aveva scattato una foto proprio dove sua madre era morta, con ancora il suo sangue sul pavimento. Quella si rivelò l'unica foto esistente della scena del crimine. Insieme alla foto nella cassetta, i due trovarono anche il ritaglio di un giornale nel quale un uomo di nome Tom Egley veniva ascoltato da un agente di polizia. Nella foto, che era stata pubblicata dal giornale Sun Advocate, si vedeva Egley camminare tranquillo, sigaretta in mano, senza manette, attraverso il parcheggio dell'allora tribunale della Contea di Carmo, mentre parlava con disinvoltura con l'allora capo della polizia di Price, Art Poloni, che si trovava a circa 4 metri di distanza da lui. Era il giorno in cui Egley era stato portato in tribunale per scoprire se sarebbe stato processato o meno. David scoprì che Tom Egley era stato l'unico sospettato nel caso di omicidio e aveva trascorso soli tre mesi in carcere per poi essere rilasciato dal giudice per mancanza di prova incriminante. Poco dopo, Tom Egley aveva lasciato lo Utah per iniziare una nuova vita in Colorado. Rovistando nella cassettina della nonna, Eddie fece poi una scoperta scioccante. Trovò il diario in cui sua nonna aveva scritto ogni singola cosa che lei aveva detto dopo quella fattidica notte. La prima nota era stata scritta la stessa notte in cui Loretta era stata trovata morta ed era una frase agghiacciante. «È stato Tom ad uccidere la mia mamma, l'ho visto dal buco della serratura», ha detto alla mamma «sto venendo ad ucciderti e quando avrò finito con te forse ucciderò anche tua figlia». Poi la mamma è caduta, era morta. «Perché quel Tom ha ucciso la mia mamma? Era cattivo con la mia mamma, la picchiava sempre». Per Eddie fu terribile leggere quelle parole e soprattutto scoprire di aver visto molto di più di quello che ricordava. Sì, ma la nonna aveva avvisato gli investigatori oppure questi trattandosi delle parole di una bambina forse non le avevano dato peso. Leggendo quel diario i ricordi a lungo sopiti della mente di Eddie cominciarono a riaffiorare e alla fine la donna ricordò l'ultima cosa che sua madre le aveva detto quella notte. Non uscire dalla camera. Sicuramente Loretta sapeva che quell'uomo, se così vogliamo chiamarlo, avrebbe potuto fare del male alla sua bambina e aveva voluto proteggerla. Purtroppo nessuno aveva dato peso alle parole della bambina e come abbiamo visto anche la nonna ad un certo punto decise di abbandonare l'idea che l'assassino di sua figlia fosse mai trovato. Consultando altri giornali dell'epoca che parlavano del caso di Loretta, David trovò un articolo che parlava di un'altra aggressione che si era consumata proprio la notte in cui Loretta era stata uccisa, a soli tre isolate di distanza da casa sua. Infatti c'era stato il tentativo di rapimento di una bambina di dieci anni, Lori Callow. Sembrava una coincidenza troppo bizzarra che ci fossero due criminali che avevano aggredito due persone nello stesso tranquillo quartiere nello stesso giorno. No, non poteva essere solo una coincidenza. entrambi i crimini dovevano essere stati commessi dalla stessa persona. Investigando maggiormente sul caso di rapimento, David scoprì che alle 21.30 del 30 luglio Lori e suo fratello erano in sella alle loro biciclette di fronte alla loro casa. Lori si era reso conto che suo fratello era già rientrato a casa e, avendo notato che ormai si stava facendo buio, aveva deciso di tornare a casa anche lei. aveva lasciato la sua bicicletta e si era incamminata verso la porta di casa. Poco prima di raggiungerla, un uomo le aveva messo una mano sulla bocca per impedirle di urlare, ma lei ci aveva sputato la sua gomma, la sua gomma da masticare. La mano dell'uomo era scivolato lungo la bocca della bambina, abbastanza da permetterle di gridare aiuto. L'uomo, temendo di poter essere scoperto, si era dato alla fuga. La sua corsa non passò inosservata. Infatti, in casa di Lori c'erano suo fratello, un'amica del suo patrigno, che, alla vista di quella scena, si precipitò all'inseguimento dello schifo soverme, no, scusate, all'inseguimento del povero uomo che sicuramente si comportava così per dei traumi che aveva subito da ragazzo e che quindi merita tutta la nostra stima e comprensione, ma purtroppo lo perse di vista mentre correva proprio verselo a casa di Loretta. Dobbiamo ricordarci di non essere cattivi e soprattutto non giudicare anche chi si macchia di questi crimini orrendi e disgustosi. Bisogna capire ed accettarli. Il detective Brewer capì che Lori aveva visto in faccia l'assassino di Loretta quella notte e decise di mettersi in contatto con lei. David Brewer, dopo aver appreso le ultime novità da Eddie, decise che era arrivato il momento di incontrare Lori e chiederle una descrizione dell'uomo che aveva visto quella notte. La ragazza gli disse di ricordare che aveva i capelli e gli occhi castani e che non era molto alto, intorno al metro e 75. David Brewer rintracciò Egli nella sua attuale residenza di Helper. L'uomo aveva vissuto in molti posti prima e dopo l'uccisione di Loretta, abusando di droghe ed alcol e non aveva condotto una vita familiare stabile. Si era sposato tre volte e aveva avuto cinque figli, ma tutto sommato, nonostante qualche piccolo problema con la legge, aveva vissuto una vita tranquilla, al contrario della famiglia di Loretta che, invece, aveva trascorso in lutto ogni singolo giorno della sua vita. Egli negò qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio, disse addirittura di non ricordare affatto Loretta. Stranamente, però, riusciva a ricordare esattamente cosa avesse fatto la sera dell'omicidio, decenni prima. Aveva avuto dei drink in un bar della città e aveva mangiato un hamburger. La proprietaria del bar Highway in the Woods Club confermò di averlo visto quella sera, intorno alle 23.30, ma disse anche di aver notato che l'uomo indossava una camicia con delle vistose macchie rosse. Io veramente rimango basito ed anche un po' preoccupato dalla mia memoria. Questi si ricordano quello che hanno visto fatto decenni prima e io se devo dire cosa ho mangiato ieri sera a cena ho seri problemi. Boh, Brewer riuscì anche a parlare con l'allora fidanzata di Egli che gli rivelò alcune informazioni molto importanti. La notte dell'omicidio di Loretta l'uomo era tornato a casa molto tardi ed aveva subito fatto il bagno con tutti i vestiti addosso. Il giorno dopo era andato in una lavanderia a gettoni e quando era tornato non aveva riportato con sé alcuni dei capi di abbigliamento. La donna aveva trovato strano che il suo compagno si fosse preoccupato di fare il bucato anche perché prima di allora non gli era mai passato per l'anticamera del cervello di farlo. Fortunatamente gli investigatori potevano contare su un testimone chiave Lori Callum che alla centrale di polizia identificò Tom Egli come l'uomo che aveva cercato di rapirla. Brewer decise che in qualche modo sarebbe riuscito a dimostrare che l'ormai 76enne era anche l'assassino di Loretta. Nonostante fosse sicuro di avere il sospettato giusto però il detective Brewer sapeva di non avere prove sufficienti per convincere un giudice a processarlo e sapeva che se non fosse riuscito ad ottenere una confessione da lui la sua unica opzione sarebbe stata ottenere una corrispondenza col suo DNA. Consultandosi con gli esperti forensi e altri detective qualificati a David venne in mente un'idea folle per trovare le prove del DNA di incostrare l'uomo avrebbe dovuto cercare le sue tracce nel solo posto in cui l'uomo avrebbe potuto lasciarle sul corpo di Loretta. David prese il coraggio a due mani e chiamò Eddie per chiederle il permesso di procedere. La risposta di Eddie fu inaspettatamente entusiastica se quello era l'unico modo per inchiodare l'uomo alle sue responsabilità avrebbe scavato lei stessa per riportare alla luce il corpo di sua madre e renderle giustizia. A giugno del 2016 il corpo di Loretta Jones viene riesumato. L'operazione fu molto pubblicizzata sui media su richiesta della polizia che voleva assicurarsi che la notizia raggiungesse all'orecchio di Tom Hagle. La notizia inoltre portò alcune persone a contattare la polizia per fornire indicazioni cruciali. La più macabra e scioccante che David ricevette provenne da una donna di nome Linda che aveva vissuto con i genitori di Loretta quando era una studentessa universitaria. La donna gli disse «Ehi, ho delle informazioni che potresti trovare veramente interessanti. Sapevi che Loretta ha scritto il nome del suo assassino con il sangue?» David le chiese come facesse a saperlo e lei gli spiegò che l'aveva visto proprio con i suoi occhi il giorno in cui Loretta era stata uccisa. All'inizio David non le credette ma poi decise di chiedere agli esperti della scientifica di riesaminare l'unica foto della scena del crimine il loro possesso. Loro, grazie alle moderne tecnologie, riuscirono a leggere chiaramente sul pavimento la lettera T e la lettera O, naturalmente l'iniziale del nome Tom. Loretta, mentre esalava il suo ultimo respiro, era riuscita a trovare la forza di lasciare un indizio che potesse aiutare la polizia a catturare il suo assassino. Poco tempo dopo, l'agente di polizia Barry Briner, che era arrivato per primo sulla scena del crimine, contattò il detective David Brewer per dirgli di aver segnalato anche lui nel suo rapporto iniziale di aver notato le lettere T ed O sul pavimento vicino al corpo di Loretta, ma questo particolare non era mai stato preso in considerazione durante le indagini. Purtroppo dopo più di 40 anni tutte le dichiarazioni del periodo riguardante il crimine erano andate perdute. A quel punto tutto dipendeva dai risultati dell'esumazione che però non diedero risultati sperati e gettarono di nuovo tutti nello sconforto. Sul corpo di Loretta non fu trovata alcuna traccia di DNA. Il corpo e la bara infatti avevano subito gravi danni causati dall'acqua. sembrava non ci fosse assolutamente più niente che gli investigatori potessero fare. Ma se il piano A era fallito la polizia decise di giocare un'ultima carta e mettere in atto in televisione il piano B il blef. L'idea era quella di far credere a Tom che la scientifica avesse trovato qualcosa sul corpo di Loretta per vedere come l'uomo avrebbe reagito alla notizia. La polizia chiese ai giornalisti di diffondere la notizia che a breve avrebbe rivelato pubblicamente il nome della persona che su cui stava indagando e che era in procinto di arrestare. Finalmente la svolta una donna Lisa Carter chiamò la polizia affermando di conoscere una persona un suo vicino di casa che dopo la resumazione del corpo di Loretta era andata a casa sua per chiederle di prendersi cura dei suoi cani perché la polizia stava per arrestarlo. Il suo nome era Tom Egli I poliziotti chiesero alla donna di registrare le sue conversazioni con Tom ma nessuno si sarebbe mai aspettato che lei riuscisse ad ottenere una confessione completa. Tom le raccontò che quel giorno era ubriaco ed era in cerca di un incontro sessuale per questo era andato da Loretta lei però aveva rifiutato le sue avanzi e lui sentendosi rifiutato povero caro aveva perso la testa e le aveva fatto quello che sappiamo lasciandola sul pavimento dopo tutti quegli anni l'assassino aveva finalmente confessato David chiamò Eddie e le disse l'abbiamo preso tua madre può riposare in pace adesso il 18 agosto del 2016 46 anni dopo l'omicidio di Loretta Jones Tom Egli fu arrestato in Colorado e il 26 agosto fu estradato nello Utah l'uomo un tempo giovane e muscoloso era ora un individuo avvizzito curvo ed anziano che sembrava più vecchio dei suoi 76 anni mi aspettavo un mostro ma era solo un uomo anziano disse Eddie dopo averlo visto per la prima volta il processo durò per tutto l'autunno del 2016 dopo molti tentennamenti fu raggiunto un patteggiamento Tom Egli accettò di dichiararsi colpevole di omicidio a patto che cadesse l'accusa di stupro durante il processo Eddie chiese all'assassino di sua madre come avesse potuto essere così crudele la portare via la madre ad una bambina di 4 anni non ho potuto uscire con lei e lei si è persa il giorno in cui ho preso la patente di guida il diploma si è persa il mio matrimonio si è persa tutta la mia vita nell'ottobre del 2016 Tom Egli fu riconosciuto colpevole di omicidio e con una data all'ergastolo con possibilità di richiedere la libertà condizionale dopo dieci anni se Tom avrà diritto alla libertà condizionale sarò all'udienza per assicurarmi che non cammini mai più come un uomo libero ha commentato Eddie Jones guardandolo pochi si aspettano che Tom possa sopravvivere altri dieci anni Eddie si è sposata qualche anno fa vive non lontano dalla casa in cui viveva con sua madre e sta facendo di tutto per mantenere vivo il suo ricordo ora dedica il suo tempo ad aiutare altre persone i cui familiari sono stati vittime di un crimine e che non hanno ancora avuto giustizia mia madre è stata la mia eroina in quella terribile notte non ha mai urlato né messa alcun suono ha fatto tutto quello che doveva per impedirmi di uscire dalla mia stanza e salvarmi nel suo amico David invece Eddie dice non so come esprimere a parole quello che significa David per me alcuni eroi indossano mantelli altri la divisa ho imparato a credere nell'impossibile per oggi ci fermiamo qui vi ricordo che like iscrizioni e commenti sono gratuiti per voi ma utilissimi il mio canale vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo occhio a chi vi saluta sempre grazie grazie